Amici un po' di Romagna anche quest'anno, dal 29 luglio al 2 agosto, dove? A Milano Marittima, con chi? Con la Lega, per qualche giorno di relax ma soprattutto per parlare di futuro, di lavoro, di impresa, di tasse, di migrazione, dell'Europa che vogliamo, quindi non prendetevi impegni, dal 29 luglio al 2 agosto io ci sarò, il 30 luglio presenterò anche il libro Secondo Matteo, musica, cucina e soprattutto la splendida gente romagnola. 29 luglio al 2 agosto, Milano Marittima, festa nazionale della Lega Nord Romagna.